C'è un nuovo servizio che il Corecom mette a disposizione di tutti i cittadini, la possibilità di effettuare una conciliazione senza muoversi della propria sede di residenza attraverso la web conference. Con l'ausilio di un PC e di un tablet per la firma graffometrica è possibile svolgere la controversia permettendo al cittadino di appoggiarsi alla sede URP più vicina a casa propria. Il servizio di conciliazione delle parti, nelle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni, è gratuito. Questo è un prodotto straordinario, dove in pratica l'istituzione arriva nella casa delle persone, c'è il tentativo della conciliazione, quello sempre di evitare le lungaggini processuali, si affrontano e diventa più piccolo il territorio grazie ai mezzi di informazione.